prima di partire per roma dove sarebbe salito al soglio pontificio il cardinale giuseppe sarto aveva promesso alla sua terra o vivo o morto tornerò e quella promessa fatta al veneto a venezia e la sua riese sta per essere mantenuta dal 6 al 15 di ottobre sarà celebrata la peregrinazio corporis che porterà appunto le spoglie mortali di papa pio decimo nel luogo che gli ha dato i natali e che oggi porta il suo nome domenica intanto si ricorderà l'anniversario della morte di papa sarto avvenuta 109 anni fa e il giorno dopo a riese ci sarà una solenne processione che si innesta nelle celebrazioni fra ristrutturazioni di casa natale e museo piste ciclabili e un tour virtuale la macchina organizzativa è pronta e al motore ben caldo e fiocano già le prenotazioni tanto che i promotori delle iniziative si aspettano la presenza di centinaia di migliaia di pellegrini un evento che porterà un sicuro indotto anche nelle zone limitrofe da bassano a cittadella da castelfranco a possagno la peregrinazio di ottobre sarà comunque preceduta da un programma di eventi religiosi e culturali che saranno pianificati dalla fondazione giuseppe sarto con la diocesi di treviso il comune di riese più decimo e altri enti